Sono 36.429 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 415.288 tamponi effettuati con un tasso di positività all'8,7%. Secondo i dati del Ministero della Salute, 214 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei riparti ordinari 9.954, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 681. Grazie a tutti.